Ciao ragazzi, oggi andiamo a recensire questo tablet che mi è appena arrivato è un tablet della Dragon Touch, quindi è un marchio cinese il modello è Max 10 e nello specifico questo modello è la versione da 3GB di RAM e 32GB di memoria quindi questo vuol dire che comunque ha una discreta dimensione di archiviazione dati interna 32GB, che però è espandibile tramite microSD da comprare a parte mentre per quanto riguarda RAM, diciamo che 3GB sono secondo me il minimo sindacale per dichiararlo un buon tablet quindi è un tablet che vi consente già di fare diverse cose e non avrà problemi di lag o di lentezza grazie al fatto che appunto 3GB di RAM sono sufficienti a fare la maggior parte dell'applicazione per quanto riguarda il processore, è un processore opta-core a 64bit quindi vuol dire che è come se avesse 8 core interni per il calcolo non viene specificato il modello ma lo vedremo qua insieme tramite delle app che andremo a installare per quanto riguarda altre caratteristiche, lo schermo è uno schermo full HD 1920x1080 quindi una buona risoluzione, non è ovviamente 4K ma insomma ci mancherebbe e niente, procediamo con l'unboxing quindi diciamo questa è la confezione con cui vi arriva devo dire si sente dentro qualcosa che scorre inizialmente mi ero un po' preoccupato perché pensavo che fosse imballato male invece devo dire l'imballaggio è piuttosto buono quindi tolta la slide della confezione c'è la scatola di cartone di buona qualità ben realizzata e piccola cortezza vedete il sfondo interno della scatola in realtà è imbottito quindi la mia preoccupazione era infondata in quanto comunque l'imballaggio era ben realizzato allora, eccoci qui questo è il tablet vero e proprio che adesso vedete c'è la pellicola sia avanti che dietro adesso la andremo a rimuovere insieme e vediamo prima però il resto del contenuto della confezione ovviamente è un contenuto base in quanto si limiterà ad avere piccoli manuali caricatore e cavetto USB allora, togliamo tutte le scatole intanto facciamo un po' di posto per quanto riguarda la presa USB che servirà ovviamente per il passaggio dati nel caso in cui lo colleghiate al PC e ovviamente per la ricarica la porta è USB-C quindi questo è il cavo in dotazione sembra di buona fattura un buon diametro di cavo ovviamente insomma non è particolarmente lungo è il classico 90 cm di lunghezza vedete la porta è la USB-C quindi quella arrotondata che potete mettere in entrambe le direzioni senza problemi mentre per quanto riguarda il caricatore c'è un caricatore da muro standard USB vediamo le caratteristiche è un caricatore da 2A quindi diciamo ha una buona potenza di ricarica non è dotato di ricarica rapida tipo quick charge e così via quindi insomma un tablet con un caricatore semplice però tutto sommato da buon amperaggio per quanto riguarda poi i manoletti c'è un manoletto in tedesco che sinceramente non conosco quindi non so bene cosa dice vediamo se si apre no, è semplicemente un cartoncino poi magari indagheremo su cosa dice probabilmente dice di registrare a colpo d'occhio la garanzia per avere i due anni di garanzia quindi basta andare su dragon touch.com slash warranty per potersi registrare e avere l'estensione garanzia a due anni per quanto riguarda il manoletto d'uso invece è un manoletto multilingua ha diverse lingue tra cui anche l'italiano ho visto prima eccolo qui quindi raggiungiamo la linguetta dell'italiano eccolo qui l'ultima lingua è l'italiano no, la penultima lingua è l'italiano e quindi niente, fornisce informazioni base riguardo il tablet quindi carino che ci sia l'italiano sinceramente non ho neanche approfondito il discorso se sia ben tradotto comunque sì, l'italiano c'è ovviamente presumo che ormai chi compra un prodotto di questo tipo sappia almeno accenderlo quindi fondamentalmente il manuale diventa quasi superfluo comunque per quanto riguarda le caratteristiche software per quanto riguarda Android è dotato di Android 9.0 Pie non so se nel frattempo fossero disponibili aggiornamenti adesso andremo a vedere insieme e per quanto riguarda la suite Google permette di installare senza il minimo problema tutto il pacchetto completo Google Suite quindi dovrebbero essere già installate tutte quante le applicazioni Google e non ha problemi con Google Play eccetera quindi potete scaricare tranquillamente qualsiasi app direttamente dal Play Store senza problemi allora, intanto vediamolo andiamo subito a vedere allora, qui diciamo sul foglietto iniziale sulla pellicola pre-fornita probabilmente c'è già una pellicola infatti vedete questo è il classico sistema di stacco che lascia una pellicola già applicata sullo schermo quindi attenzione quando la sollevate sollevatela in maniera tale da non staccare la pellicola protettiva perché appunto questo è uno strato superficiale ma sotto c'è già una pellicola applicata qui fondamentalmente dice di accenderlo tramite il tasto di accensione di se non si dovesse accendere di caricarlo almeno per due ore così da poi riprovare e niente, diciamo come si sblocca e così via quindi fondamentalmente piccole informazioni di accensione per quanto riguarda sul retro invece abbiamo qui in alto la fotocamera dotata di flash la risoluzione della fotocamera non la so vedremo insieme qual è la qualità solitamente diciamo i tablet di fascia bassa tra virgolette non brillano per una fotocamera particolarmente performante vedremo insomma questo come se la va a cavare allora procediamo subito a togliere le pellicole che fondamentalmente odio quindi le togliamo insieme eccolo qui allora tolta la prima pellicola per quanto riguarda la finitura credo che sia in metallo sì sì il fondo del tablet è in alluminio riporto ovviamente il logo del produttore c'è un seriale che dice di salvare e rimuovere l'etichetta adesso questa magari la lasciamo per sicurezza per quanto riguarda la connettività allora abbiamo qui sul laterale la porta cuffie quindi come un jack standard da 3,5 mm quindi il jack cuffie tradizionale e poi tasto di accensione e tasto volume mentre qui sulla parte alta abbiamo il connettore USB-C per la ricarica e la connessione ad un PC e la porta per la micro SD quindi per la scheda di memoria è sotto questo sportellino che probabilmente va aperto ecco fatto sì esatto si toglie lo sportellino e qui c'è lo slot per inserire la micro SD cioè la scheda di memoria io insieme al tablet ho preso anche questa scheda che adesso andremo a montare insieme supporta fino a 128 GB di memoria di archiviazione io ho preso questa da 64 in quanto il prezzo mi è sembrato ragionevole credo di averla pagata intorno ai 12 euro su Amazon poi magari vi metto il link in descrizione quindi comunque c'è la possibilità di mettere la scheda micro SD in dotazione comunque ha già una memoria da 32 GB quindi fondamentalmente già ha una discreta memoria interna adesso vediamo se è tutta sfruttabile o se magari è già parzialmente occupata dalle applicazioni allora vado a togliere questa pellicola protettiva come vi dicevo faccio in maniera tale da cercare di lasciare lo strato protettivo ecco fatto vedete tolgo questa pellicola estremamente sottile che riporta appunto solo le informazioni mentre sul fondo forse adesso non so se si riesce a vedere qui sul video c'è una pellicola protettiva già applicata quindi attenzione non rimuovete tutti e due gli strati ma solamente questo leggerino così da avere appunto la pellicola già applicata non è una pellicola in vetro ma è semplicemente una pellicola adesiva però comunque è una protezione ulteriore per lo schermo allora andiamo ad accendere io in realtà come vi dicevo l'ho già acceso e ho già inserito i parametri di accensore quindi fondamentalmente dovete semplicemente scegliere lingua italiana che siete residenti in Italia inserire una email gmail per la configurazione e dopo scegliere se importare o meno le applicazioni che già avete su altri dispositivi quindi è un'operazione piuttosto semplice non serve essere esperti insomma quindi è una cosa abbastanza intuitiva che potete fare sulla prima accensione una volta accesa vedete il tempo di accensione tutto sommato è più che accettabile questo è lo schermo di fabbrica diciamo io ho già inserito un pin protettivo e sbloccato col pin adesso probabilmente la luminosità è leggermente bassa andiamo ad alzarla esatto adesso sta a metà la mettiamo alla massima risoluzione alla massima luminosità bene devo dire è un buon display ha una buona risoluzione e soprattutto ha una discreta luminosità quindi diciamo è piuttosto luminoso comunque adesso lo metterò alla prova per qualche giorno così da essere sicuri insomma che le performance siano accettabili e che il tablet funzioni a dovere per quanto riguarda la fluidità vediamo mi sembra piuttosto fluido devo dire vediamo un po' su youtube per esempio il tempo di avvio il tempo di avvio delle app è piuttosto veloce devo dire non è male per quanto riguarda proviamo magari mettiamo un video per sentire anche l'audio per quanto riguarda l'audio ha due casse qui sulla parte bassa e quindi fondamentalmente l'audio è stereo adesso ho messo un video veramente in bassa qualità ok il tablet devo dire è piuttosto reattivo apriamo un sito pesante come può essere quello di Repubblica anche la tastiera devo dire risponde bene ai comandi ovviamente siete liberi di installare app che preferite quindi potete mettere magari la tastiera Google invece che quella di Fabrica e comunque sì insomma mi sembra che la reattività della tastiera sia comunque piuttosto buona è piuttosto fluido c'è un leggero lag sul video ma insomma parliamo comunque di un tablet che costa meno di 150 euro comunque quindi nonostante sia abbia buone performance dal punto di vista hardware comunque sì il prezzo è piuttosto contenuto quindi non ci si può aspettare che sia fluido quanto un tablet da 1000 euro però comunque sia devo dire non è un cinesone di quelli inutilizzabili insomma mi sembra a primo colpo d'occhio un tablet più che dignitoso e che funziona piuttosto bene già che ci siamo facciamo subito una prima prova con la fotocamera ecco siamo già sulla telecamera frontale la risoluzione mi sembra piuttosto bassa quindi la qualità video delle fotocamere almeno di quella frontale non è particolarmente alta devo dire comunque sia i colori sono dignitosi ma insomma probabilmente non andrete in giro a fotografare tramite tablet vediamo ecco qua giriamo la fotocamera passiamo su quella retrostante questa sembra decisamente più fluida anche se comunque sia non mi sembra che brilli di risoluzione vediamo magari di mettere a fuoco un oggetto faccio una prova insomma ha una discreta risoluzione ma ovviamente non altissima i colori comunque sono piuttosto buoni poi ovviamente andrà sperimentato magari più a fondo comunque almeno a mio avviso ovviamente su un tablet di questa fascia non ci si può aspettare che faccia fotografie come un iPhone o un telefono di ultima generazione insomma quindi sono fotocamere con risoluzione piuttosto base però insomma devo dire all'occorrenza può essere utilizzata torniamo a noi comunque per quanto riguarda le caratteristiche del video come vi dicevo la risoluzione è piuttosto buona quindi ha una risoluzione full hd ma a differenza degli ultimi tablet e di diciamo della moda del momento ha un bel po' di cornice che sinceramente non è che dia così fastidio però ovviamente rispetto ai tablet di ultima generazione o gli ultimi modelli moderni diciamo pecca un po' di estetica perché appunto ha il cornicione come tablet di un tempo insomma per quanto riguarda lo spessore devo dire non è particolarmente sottile e anche il peso diciamo si sente non è proprio leggerissimo vediamo subito facciamo una prova a bilancia lo mettiamo alla prova così vediamo quanto pesa a tutti gli effetti ecco qui accendiamo la bilancetta e vediamo che il peso è di 560,5 grammi quindi quasi 600 grammi 6 etti di peso devo dire che in mano si sente ma c'è da dire che è una batteria da 5000 mAh quindi in teoria permette una grande autonomia di batteria e il produttore lo dichiara fino a 10 ore di riproduzione e streaming quindi presumibilmente insomma magari 10 ore probabilmente non le fa ma comunque sia garantisce un'ottima autonomia questo ovviamente incide sul peso perché per avere più autonomia serve una batteria piuttosto grande quindi 5000 mAh per capirci sono tanti e ovviamente si sentono a livello di peso come vi dicevo appunto è leggermente spesso però comunque sia insomma è più che manovrabile in mano si tiene bene e devo dire anche la tastiera di fabbrica mi è sembrata piuttosto comoda da utilizzare vediamola al volo vedete i tasti sono piuttosto grandi poi ovviamente è personalizzabile come volete insomma per quanto riguarda i menu a tendina sono piuttosto fluidi e vedete le app installate di fabbrica io ancora non ho installato né aggiornato nessuna app ci sono tutte app del pacchetto Google Suite senza nessuna app particolare quindi non è un tablet appesantito da app preinstallate cosa buona perché appunto non si occupa la memoria inutilmente ovviamente andando nel Play Store probabilmente ci saranno moltissimi aggiornamenti che adesso magari vado a fare nelle prossime ore prima di metterlo alla prova sì infatti vedete ci sono tanti aggiornamenti da fare comunque vedete che l'utilizzabilità sembra piuttosto buona lo schermo è ovviamente orientabile vedete si mette anche in verticale così da poterlo usare in formato libro diciamo e come vi dicevo insomma i colori sono buoni adesso magari vado a testare qualche app come CPU-Z eccetera per vedere anche l'hardware e ci vediamo poi più avanti con la seconda parte del video dove vado a spiegarvi un po' le caratteristiche e lo metteremo magari alla prova con qualche app per vedere come se la cava il processore con un uso un po' più intensivo bene ragazzi rieccoci alla seconda parte del video devo dire che ho messo il tablet un po' alla prova in questi giorni ci ho giocherellato parecchio e devo dire che sono rimasto piuttosto soddisfatto dalle prestazioni di questo tablet diciamo di fascia abbastanza contenuta come prezzo allora per prima cosa andiamo subito a vedere le caratteristiche ho scaricato una piccola app che si chiama CPU-Z che mi permette appunto di conoscere il processore dato che il produttore non ne parlava bene vi confermo che il processore è un Cortex A55 che arriva fino a 1,6 GHz quindi un processore dignitoso ovviamente non di fascia alta ma comunque sia diciamo si difende è un processore che non è recentissimo credo sia uscito nel 2017 comunque si difende più che bene su un tablet che ovviamente è destinato ad una fascia piuttosto bassa di mercato perché attualmente un tablet di fascia alta è un tablet che costa all'incirca 1000€ ovviamente quindi potete ben capire che ovviamente non abbiamo dei processori top di gamma su un tablet che invece ne costa molto meno comunque sia diciamo che rispetto a tablet cinesoni questo si comporta molto bene e anche il fatto di avere 3 GB di RAM sicuramente permette di avere un comportamento fluido in praticamente tutte le applicazioni allora l'ho usato parecchio per vedere serie su Netflix e devo dire fa bene il suo lavoro lo schermo ha un buon angolo di visione anche se ovviamente non è ad altissimo angolo di visione quindi ruotandolo troppo vedendolo troppo di lato ovviamente non avrete una visione perfetta ma si avranno dei colori leggermente alterati però tutto sommato guardandolo con un angolo di visione diciamo frontale che è quello che fondamentalmente si va ad utilizzare il funzionamento è piuttosto buono quindi devo dire fa bene il suo lavoro è piuttosto fluido vedete insomma va molto bene e per quanto riguarda il video devo dire che non si comporta assolutamente male anzi i colori sono buoni ha un buon contrasto e l'audio grazie al fatto che ha una doppia cassa sotto si difende piuttosto bene anche dal punto di vista dell'audio ovviamente essendo un tablet quindi non avendo cassa di risonanza comunque sia pecca leggermente di bassi però si può avviare facilmente utilizzando delle cuffie di buona qualità grazie al jack integrato o direttamente tramite connessione bluetooth collegandosi per esempio ad una cassina esterna per quanto riguarda il sistema android è dotato di android nuove e attualmente non è ancora disponibile un aggiornamento però ripeto l'interfaccia è piuttosto pulita non ha strane app già preinstallate quindi insomma si comporta bene ho installato ho fatto qualche prova anche per leggere qualche book quindi tramite kindle diciamo fondamentalmente utilizzandola magari in verticale si comporta molto bene la visione dello schermo è buona è nitida e si legge bene anche se bisogna ammettere che è leggermente pesante quindi ovviamente tenerlo in mano tanto tempo non è il massimo quindi ovviamente se acquistare il tablet per leggere libri questo si comporta bene ma fondamentalmente non è comodo quanto un kindle vero e proprio quindi quelli con gli schermi digitali per capirci con l'inchiostro digitale che permettono di avere una maggiore leggerezza e un maggiore contrasto quindi diciamo si comportano molto bene per la lettura anche se questo come potete vedere è piuttosto fluido permette di leggere senza problemi anche in condizioni di luce grazie al fatto che ovviamente lo schermo è retroilluminato da quanto ho potuto vedere non ha le funzioni per eliminare i colori blu e così via quindi per ottimizzare lo schermo per la lettura ma fondamentalmente grazie al Play Store potete scaricare le piccole app correttive e ottimizzare il display un po' come vi pare si comporta molto bene anche con i PDF devo dire è piuttosto fluido e quindi non ha assolutamente problemi quindi devo dire fa bene il suo lavoro anche per uso Office diciamo quindi se lo utilizzate per documenti e quant'altro per quanto riguarda Facebook ovviamente anche in questo caso fa piuttosto bene adesso appena aggiornato quindi insomma vedete è piuttosto fluido si comporta bene apre bene le immagini è possibile zoomare insomma senza il minimo problema quindi anche per uso tablet devo dire si comporta piuttosto bene quindi se lo volete utilizzare per social network e quant'altro fa bene il suo lavoro ovviamente come vi avevo accennato la fotocamera non è di altissima qualità quindi né quella frontale né quella posteriore brillano per qualità delle foto ma ovviamente per un uso così improvvisato comunque diciamo si ottengono foto più che discrete ripeto che se il vostro principale obiettivo è quello di fare fotografie forse vi conviene utilizzare magari lo smartphone farle in alta qualità e poi trasferirle sul tablet magari per poterle editare su uno schermo piuttosto grande come vi dicevo questo è un tablet a 10 pollici quindi diciamo lo schermo è comodo per questi piccoli lavoretti per quanto riguarda l'audio con spotify ho fatto varie prove si comporta bene anche con la connessione bluetooth va piuttosto bene quindi insomma potete utilizzarlo senza il minimo problema anche per ascoltare musica come vi dicevo l'audio è buono ha una buona qualità degli alti ovviamente pecca di mancanza di bassi ma quello è inevitabile perché appunto sono casse di piccola entità per quanto riguarda app più impegnative dal punto di vista grafico ho scaricato qualche piccolo gioco per fare delle prove al volo e comunque il processore consente di giocherellare senza grosse difficoltà anche con app leggermente più pesante questo attualmente è un giochino solo per farvi vedere insomma la qualità al volo e comunque sia si comporta bene così possiamo testare anche l'accelerometro vedete il comportamento è piuttosto fluido quindi insomma è adatto anche se volete fare piccoli giochi non ha lag e non ha diciamo buffering e quant'altro quindi si comporta bene per quanto riguarda i giochi anche con giochi decisamente più pesanti come può essere Need for Speed comunque fa bene il suo lavoro ovviamente non è un tablet pensato per alte prestazioni durante i giochi ma comunque si difende greggiamente e quindi vi consente di giocare senza grossi problemi vedete anche con giochi più pesanti comunque la grafica è piuttosto buona si comporta bene e devo dire insomma sono soddisfatto anche sotto questo aspetto devo dire anche il touch è piuttosto reattivo e una cosa che mi è piaciuta è il fatto che il Wi-Fi non è semplicemente a 2,4 Hz come connessione ma consente anche la connessione a 5 GHz quindi vi consente anche di utilizzare una connessione Wi-Fi decisamente più veloce e più stabile quindi quella a 5 GHz ovviamente non è dotato di scheda SIM interna quindi non è possibile avere una connessione di dati ma dovrete sfruttare una connessione esterna quindi tramite modem Wi-Fi o magari tramite una connessione Wi-Fi di casa domenica quindi fibre e quant'altro è piuttosto veloce anche nell'installazione dei giochi e come vi dicevo ha l'accesso completo al Play Store quindi è possibile installare qualsiasi app senza il minimo problema bene quindi penso di avervi detto più o meno tutto quindi riepilogando è un ottimo tablet per chi non necessita di un tablet top di gamma quindi non ha fronzoli quali magari pennina e mille mila piccoli funzioni e app personalizzate ma è dotato della suite Google completa ha accesso completo al Play Store per poter scaricare qualsiasi app e quindi devo dire è un tablet che si comporta piuttosto bene funziona bene con Netflix con Spotify funziona bene per leggere i PDF o se volete utilizzarlo come ebook reader quindi per leggerlo tramite Kindle o altre app del genere si comporta bene con i giochi si comporta bene con Facebook e quindi diciamo secondo me ha superato il test ovviamente il produttore produce anche tablet di fascia più bassa quindi se cercate qualcosa di più economico ci sono anche tablet più economici quindi magari invece che a 8 core a 4 core e invece che con 3 giga di RAM con meno memoria ma ovviamente questo ve lo consiglio perché sicuramente è un tablet che vi consente comunque di giocherellare senza problemi anche con app più pesanti e grazie a 3 giga di RAM comunque si comporta bene un po' in tutte le situazioni per quanto vi dicevo lo schermo vi confermo che la risoluzione è full HD quindi abbiamo 1920x1200 pixel di risoluzione e la memoria interna è da 32 giga espandibili volendo può essere utilizzata anche la sim la micro SD per poter espandere la memoria per installare le app ma nel mio caso ho inserito una micro SD da 64 giga da utilizzare magari solamente per mettere su dvx mp3 e quant'altro così da avere video musica e quant'altro sempre con me per poterlo utilizzare magari quando sono in giro per quanto riguarda la memoria lo spazio di archiviazione dei 32 giga dichiarati dal produttore una parte erano già occupati dalle app preinstallate del pacchetto google però comunque sia resta tanta memoria disponibile anche senza ricorrere a una micro SD poi ovviamente ormai visto che sono piuttosto accessibili come prezzi se avete bisogno di più spazio per archiviare dati foto e quant'altro potete comprare una micro SD senza il minimo problema e regge fino a 128 giga di memoria micro SD quindi insomma non avrete problemi anche se avete un grosso archivio dati da portare con voi con il tablet quindi niente sono soddisfatto e come al solito se avete dubbi o curiosità potete scrivermi sotto al video cercherò di rispondervi magari per togliervi qualche piccolo dubbio come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere il like e magari di iscrivervi al mio canale così da essere aggiornati sulle prossime recensioni che farò nel tempo insomma quindi grazie e alla prossima un saluto da Mariano